Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale YouTube di Anna Karz. Oggi andremo ad aprire Battaglia della Leggenda capitolo 1 e non vedo l'ora di aprirla con voi. Andiamo a vedere insieme cosa c'è dentro. Wow! Allora c'è un dado del glorioso soldato nero, bellissimo. Una promo, Signore del Tempo, Progenitore, Warpgate, questa è la prima singola Signore del Tempo e due bustine con un sacco di carte dentro. Quindi andiamo subito a vedere cosa possiamo trovare. Qui dovrebbero esserci molte ristampe della Battaglia della Leggenda. Casa di Pan di Zenzero Neos Cavaliere Eroa Elementale Dux Cotopi Eroe del Destino T.G. Pesci e Trivella Fusione Vision Direttrice Arpia Jogen Ninja del Crepuscolo Sonno Kaiju Interrotto Cyber Drago Ultra Rara Molto bella Uh! Minerva Che sembra Sembra Secret Super Secret Super Tipo Minerva L'Eminente Fedele della Luce Questa è una delle mie carte preferite in assoluto E Yubel Sempre in questa rarità un po' particolare Tipo rara Super rara Molto bello Qui abbiamo un po' di comune Cronomalia Ancora Rattame Prisma Ristampa di Prisma Molto buono Diagramma Dragonico Comune Ok Drago Fossile Bihamut Nato sotto Traconis E niente niente male come primo pack Andiamo a vedere subito il secondo Wolf Fedele la luce terreno della tridimensione bellissima ristampa Raggio Minimo Hero Nescaoliere Questa abbiamo trovato anche prima Contatto Miracolo Avvelenatore Raid Raptor Falco Satellite Cannone E Saggio con gli occhi di blu Finalmente la ristampa di questa carta Veramente spettacolare Lancio Rapido nella nuova rarità particolare Rara Super E Drago Calibro Spada In questa nuova rarità Poi numero 75 la ristampa Doppia Elica Sferale Preparazione dei Riti Neos L'Onesto Terrore Decimatore Cingolato Denier E il nuovo Neos Ero Elementale Ok ragazzi Così abbiamo aperto I primi pack Della battaglia della leggenda Capitolo 1 E voi cosa avete trovato Spero Tante belle cose Io nel dubbio Ho trovato La carta Che stavo proprio cercando Quindi sono molto felice Vi ringrazio ancora per la visione E ci vediamo Al prossimo video Grazie